Giuseppe Gilles Carissimo ingegnere, caro amico mio, salve Buonasera, ti volevo fare una domanda, una domanda di tutti i tuoi fan Prego, prego Ma come ti ammai a chiamare Giuseppe? Esposilo Fabio Gargano Questa è una domanda che mi vengono tante persone Questo è Fabio Gargano, chi è Fabio Gargano? Allora, Fabio Gargano, voi quando vedete i miei stati che scrivo su Facebook Fabio Gargano sono io, è il mio nome d'arte Anzi, con l'occasione di ringraziare e salutare tutte le persone che mi seguono Sia su Facebook che su Youtube Che proprio ieri 3 gennaio la mia pagina ha compito tre anni Tre anni di piena musica, grazie a tutti voi, grazie veramente Vi voglio ringraziare una ad una tutte le persone Però non è possibile, perché sennò facciamo la dita Non ci vediamo in più Però grazie, grazie veramente, grazie di voi Bisogna ricordare una data importante Certo, il 4 febbraio al Teatro Cileno Ci sarà Fabio Gargano al grande festival Operazione Canto Grandissimo evento, vi aspetto Grazie ancora a tutti, ciao